Protagonista della segnalazione arrivata da un telespettatore di Rete Veneta è ancora l'ambito dei rifiuti urbani. Questa volta si tratta di olio da cucina esausto che non è stato correttamente conferito nell'apposito bidone di raccolta predisposto da Etra. Siamo in via Cabaroncello a Bassano all'ingresso del parcheggio del campo di rugby. Decine di litri di olio sono stati lasciati all'interno di bottiglie e flaconi di plastica appoggiate a terra. È una situazione di degrado che riguarda sia la parte anteriore sia quella posteriore del bidone. Ma proprio qui solge un altro problema dato che quella che sbuca dall'imboccatura sembra essere proprio una bottiglia all'interno di un sacchetto quindi non solo l'olio non viene versato dentro il contenitore giallo ma il conferimento avviene in modo scorretto che crea problemi anche al recupero stesso dell'olio.